Ciao Matteo, ti volevo ringraziare per avermi consigliato il corso di Naturopatia Taoista, poiché all'interno ho trovato informazioni davvero utili e molto interessanti e devo dire che facendo pratica delle tecniche da te insegnate, ogni giorno che passa i benefici sono sempre più evidenti. Quindi ti ringrazio davvero tanto, ciao!